Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come al nostro solito sono tre gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro. Partiamo subito dal via libera alla proroga delle graduatorie di operatore socio-sanitario, provvedimento approvato all'unanimità. E poi si parla della non-fusione dei comuni dell'Alta Valdera dopo l'esito del referendum. Rimangono due comuni separati, Laiatico e Peccioli. E poi si parla delle risorse messe in campo dalle strutture commissariali per quanto riguarda gli eventi calamitosi dello scorso novembre. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie in ambito di operatore socio-sanitario. Risultano infatti essere di prossima scadenza graduatorie approvate nel 2022 relative al reclutamento di personale avente il profilo professionale di operatore socio-sanitario e perciò al fine di favorire quella che è l'economicità e l'accelerità nell'espletamento delle procedure di assunzione si rende così opportuno disporre una proroga della relativa efficacia per il periodo temporale di un anno. Questo è quello che ha dichiarato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani illustrando l'atto in Aula. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata, fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie perché ci sono delle norme che dicono che durano due anni le graduatorie quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in Commissione nell'analisi del testo presentato abbiamo visto che ci sono dei precedenti comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatorie. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa. In altri casi in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza Commissione di limitare a un'unica graduatoria quella degli OSS che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo per capire e per assaggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. Rimane una ambizione legittima che era di le persone che stavano in graduatoria, che avevano partecipato a un concorso pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano due anni, io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS e gli OSS in particolare venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa, devo dire tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose, la mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie. Il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle OSS. Le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la graduatoria. Adesso che la graduatoria viene prorogata, l'auspicio che venga utilizzata è come tale, si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. È un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi avevano fatto delle emozioni, nella mia, diverso dalle altre c'era anche per le altre operatori sanitari perché gli osse sono sicuramente il numero maggiore ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo vorrei e ho la commissione sanità dalla mia parte che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare come sta facendo da troppo tempo una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la banderina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. E la fusione dei comuni di Laiatico e Peccioli in provincia di Pisa non si farà. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere contrario alla proposta di legge per l'istituzione dei comuni dell'Alta Valdera attraverso la fusione dei due comuni. L'aula si è espressa con voto unanime. La decisione dell'Assemblea Legislativa è arrivata a seguito del esito del referendum consultivo. In quel caso hanno risposto sì 1.154, hanno risposto il no 1.344. Quindi nel dato complessivo è prevalso il no, a Peccioli è prevalso il sì, ma alla fusione per pochi punti percentuali, mentre l'Aiatico il no ha prevalso nettamente. Il Consiglio regionale ha registrato gli esiti del referendum consultivo che si è tenuto presso le comunità di Peccioli e di Laiatico. Se infatti a Peccioli ha prevalso, seppur di pochi punti percentuali, il voto favorevole alla fusione, nel comune di Laiatico è nettamente ha prevalso il no, con all'incirca il 68% dei voti contrari. Si è trattato quindi di un referendum che nel complessivo ha registrato una prevalenza dei voti contrari rispetto ai voti favorevoli, quindi tenendo conto di un voto complessivo prevalentemente contrario e di un voto nettamente contrario in uno dei due comuni coinvolti dal percorso di fusione, il Consiglio regionale, con voto unanime, ha deciso di respingere la proposta di legge di istituzione del comune dell'Alta Valdera. Una proposta di legge che aveva preso le mosse dalle delibere dei consigli comunali, che aveva portato la Giunta regionale all'elaborazione dell'atto normativo e che oggi tiene conto degli esiti di un referendum, che non era vincolante nella sua espressione, ma soltanto consultivo, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di rispettare coerentemente la volontà manifestata dagli elettori. Sapevamo, frequentando quel territorio, frequentando i cittadini sia di Laiatico che anche di Peccioli, che non era visto di buon occhio questa fusione proposta da due sindaci, targati PD, votata dai consigli comunali a maggioranza, targati PD, ma i cittadini manifestavano una volontà di rimanere autonomi, due comuni molto importanti per la Valdera, due comuni anche completamente diversi, anche se vicini. Un comune come quello di Peccioli, molto ricco anche per la presenza di una discarica che appunto è molto attiva su quel territorio. Dall'altra parte il comune di Laiatico, un comune importante, un comune famoso anche per il Teatro del Silenzio e per Andrea Bocelli, che manifestava a gran voce l'interesse a rimanere autonomo. Quei dati li conoscevamo, ma quei dati hanno confermato semplicemente da parte nostra, da parte mia, che comunque vengo dalla provincia di Pisa e conosco bene quei territori, un dato che già si respirava nell'aria da tempo. Il sindaco di Peccioli ci ha approvato, ci aveva già approvato nel 2013, in quel caso proponendo la fusione con i comuni di Capannoli e Palaia, anch'essa non era andata bene. Una seconda prova, ma chissà, forse sarà più fortunata la terza. Io mi auspico che non arrivino altre proposte scelerate come fusione di quei comuni in quell'area, che è un'area che ha tanti problemi, tante criticità, dovute anche e soprattutto a un'area coinvolta in smaltimento di rifiuti, come la discarica, non dimentichiamo il tema di Chiani, un comune anch'esso molto vicino, con tutto il tema della grillaia, che non ha bisogno di ulteriori fusioni, non ha bisogno di interessi da parte di pochi e comprare comuni così diversi tra loro solo per gli interessi di pochi. Ha bisogno di amministratori seri che abbiano l'interesse primario che è quello di fare bene di un territorio che ha bisogno di essere sviluppato e che ha veramente tanto da dare, non solo alla Valdera ma a tutta la Toscana. Il Consiglio regionale ha preso atto del referendum che si è svolto nel dicembre scorso sull'ipotesi di fusione dei comuni di Peccioli e l'Aiatico, un progetto fortemente voluto dal Partito Democratico, sul quale avevano lavorato le segreterie del Partito Democratico negli ultimi mesi, per tanti mesi, tant'è che due sindaci, tutte e due estrazioni PD erano d'accordo, due consigli comunali, tutti e due a maggioranza PD avevano già votato a favore di quel progetto di fusione. Quindi noi ci aspettavamo oggi di trovare il trionfo del Partito Democratico nell'accogliere la nascita del nuovo comune dell'Alta Valdera. In realtà tra questo progetto c'è stato un no sonoro da parte degli abitanti di Laiatico e anche gli abitanti di Peccioli si sono espressi in maniera differente da come le segreterie del PD pensavano. Parliamo degli eventi calamitosi non soltanto quelli dello scorso novembre ma anche quelli del 15 e del 17 maggio del 2023. Infatti come ha dichiarato in aula l'assessore al regionale della protezione civile perché ha risposto a un'interrogazione di Elisa Tozzi della Lega in merito all'attività delle strutture commissariali per gli eventi calamitosi verificati in Toscana a maggio e allo scorso novembre sono stati stanziati 15 milioni di euro per interventi di tipo A quelli dell'immediato sostegno alla popolazione e poi di tipo B quelli per le sommergenze dei quali 109 mila euro proprio per l'immediato sostegno. Le risorse sono già state assegnate ai comuni coinvolti da parte del commissario Gianni che ha già fatto il censimento delle opere necessarie per la ricostruzione. Ascoltiamo appunto le dichiarazioni anche del commissario Eugenio Gianni dopo i consiglieri. Noi abbiamo bisogno sull'alluvione di un segnale davvero forte. La questione si compone di due aspetti. La prima è quella della scadenza delle domande che ormai è imminente, il 19 su cui abbiamo poi contezza anche di quanti sono i danni e le richieste che vengono dalle famiglie e dalle imprese. Io ricordo che la regione toscana ha stanziato a dicembre 37 milioni in parte per le imprese e in parte per le famiglie che ad oggi sono la somma più importante che ha visto un primo aiuto vero e concreto per queste famiglie e per chi ha sofferto e chi sta ancora soffrendo. Però lo diceva ieri l'assessora Monni in risposta a un'interrogazione, le somme urgenze contano 110 milioni, dal governo sono arrivati 30 milioni. Quindi se noi sommiamo anche la parte dei ristori che abbiamo messo a disposizione, la regione toscana ha già messo 147 milioni, mentre dal governo sono arrivati circa 35 milioni. Sulle somme urgenze ci sarebbe bisogno di una cifra che vada a 780 milioni e anche di più probabilmente, quindi noi stiamo aspettando che ci sia un segnale forte per dare un riconoscimento sia sulle somme urgenze, quindi per fare i lavori necessari per mettere in sicurezza, sia per riconoscere alle famiglie e alle imprese i danni che sono stati subiti e che ancora sono lì perché le famiglie soffrono ancora. La regione toscana non ha brillato per velocità in quello che sono stati gli interventi e il supporto alle popolazioni che, continuo a raccontare, l'intervento dal punto di vista della protezione civile ha fatto il possibile, ma sicuramente c'è da dire che il quadro che si era presentato era di forte abbandono del sistema idrogeologico e profonda cementificazione. Quindi nessuno si aspetterà certo miracoli, ma ci sono ancora famiglie che hanno perso tutto e che non sono in grado di poter recuperare la vita nel luogo dove sono nati e dove vivevano e lavoravano. E questo significa che le carenze ci sono state da parte della regione e di un governo che sta assumendo un atteggiamento penalizzante anche nei confronti della regione toscana. È inaccettabile che nel tritacarne politico dello scontro tra destra e sinistra possa finire in mezzo il cittadino che ha soltanto bisogno di un aiuto e da questo punto di vista ha avuto poco al suo fianco sia la regione che il governo nazionale. Se attivi ora la procedura, bene, se non la attivi poi è difficile recuperare. Quindi io invito le famiglie che hanno avuto danni dall'alluvione a poter presentare la propria domanda secondo la piattaforma che è nel nostro sito o se ci vuole un aiuto, gli sportelli che abbiamo a Prato, nell'Excreaf, a Campi, a Palazzo Lucellai, a Quarrata e con tutto quello che sono le associazioni di categoria state in grado di mettere in campo con i CAF. È necessario entro il 19 perché ripeto, poi l'ITER chissà quando riarriva. E questo era anche l'ultimo argomento che abbiamo trattato in questo nostro incontro per gli aggiornamenti, le informazioni e le lucidazioni di sempre il sito inter. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento la prossima settimana quando saremo ancora insieme dentro il Consiglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!